Da Caorle, domenica prossima sarà inaugurata la quattordicesima fiera dell'Alto Adriatico. Il programma della giornata prevede il taglio del nastro alle ore 10.30. Le autorità regionali, provinciali e locali porteranno il loro saluto e di seguito ci sarà l'intervento del critico d'arte Vittorio Sgarbi che relazionerà sul titolo della fiera Il cibo nell'arte.